allora intanto bentornato camille ripreso attività con la squadra dopo il periodo di isolamento intanto come stai com'è la tua condizione se sei contento di essere tornato a lavorare con il gruppo sì esattamente finalmente dopo dopo due settimane a casa chiuso a casa sono uscito posso allenare con ragazzi certo la diciamo la forma non è la stessa che prima però la mi sono comunque tenuto in buona condizione adesso con questa con questi allenatori con questa squadra piano piano secondo me riterrò veloce speriamo senti hai seguito la squadra da bordo campo a cisterna di latina come come hai trovato i tuoi i tuoi compagni penso immagino abbastanza bene sì sì certo più importante che abbiamo preso tre punti sai poi comunque per me guardare guardare la partita di dietro è una cosa brutta brutta esperienza però sono contento tre punti quello quello è che conta senti parliamo un po della partita di domani è una partita contro contro verona che è un avversario in grande forma viene dalle vittorie con con piacenza e con trento entrambe al tie break un avversario decisamente complicato soprattutto visto il periodo e vista anche la nostra insomma la nostra condizione ancora mancheranno altri altri due compagni di squadra che partita ci aspetta domani camille dobbiamo essere molto molto attenti secondo me sono hanno una forma crescente adesso hanno vinto contro trento quello sempre di da tanto tanto di fiducia autostima e adesso lo dobbiamo comunque dimostrare che che non sono arrivati ancora a nostri livelli l'ultima cosa chiudiamo l'anno chiudiamo questo 2021 che al pallabarton davanti al nostro pubblico penso che tutti quanti abbiate voglia di regalare ai nostri tifosi una bella vittoria sì sì qui esattamente più bello che che siamo siamo ritornati a essere insieme in palazzetto quello quello dobbiamo festeggiare grazie camilla